Buongiorno, rieccoci in questo pomeriggio, il penultimo incontro di Babel Babele. Non so voi, ma per me in questo periodo sembra che i drammi, che si susseggono a un ritmo abbastanza intenso, però presentano sempre allo stesso tempo, quasi immediatamente, quasi sempre, anche una sorta di regalo, una sorpresa positiva. E' un po' il caso anche di questo incontro composito che abbiamo pensato, dedicato al Libano, in cui volevamo ospitare due scrittori che rappresentano in qualche modo due situazioni simmetricamente diverse, quindi un scrittore che vive in Libano e scrive in francese, una scrittrice che invece vive a Parigi e scrive in arabo. Purtroppo abbiamo saputo qualche settimana fa che Oda Barakat non sarebbe potuta essere con noi e quindi questo è il dramma di questo momento, però la sorpresa è stata di riuscire in pochissimo tempo ad invitare con noi una delle nostre attrici italiane preferite, quindi la seconda parte di questo incontro sarà una lettura scenica di Silvia Gallerano che leggerà un testo di un'altra scrittrice straordinaria che non avremmo potuto invitare data l'età, Etel Adnan. Il testo è tradotto e curato da Maria Nadotti, quindi un'altra grande amica di Babel che siamo felici di ritrovare con noi di nuovo, che cura anche tutto questo incontro. La prima metà dell'incontro è invece con lo scrittore libanese Sharif Majdalani. Majdalani appunto vive a Beirut, però scrive in francese, è autore di molti romanzi e il primo libro suo però che ho letto e che me l'ha fatto scoprire è un libro che ha scritto l'anno scorso, si chiama Beirut 2020, è un libro che mi sembra abbastanza anomalo nella tradizione letteraria araba perché si avvicina quasi all'autofiction o comunque a un diario e quindi mi sembra che sia un esperimento particolare e in questo libro narra un anno terribile del Libano e di Beirut in particolare in cui lì sì al dramma non succede la bella sorpresa ma un altro dramma e poi ancora un altro dramma e quindi un libro terrificante da questo punto di vista se non fosse che la cosa che mi sembra che emerga più forte è la capacità dell'uomo di resistere malgrado sembra sempre che abbia raggiunto il fondo. Quindi buon ascolto a voi e un benvenuto ai nostri ospiti. Allora siccome abbiamo un tempo compressissimo da dedicare al Libano oggi nell'arco di meno di due ore dobbiamo fare tante cose partiamo subito. Io la prima domanda a Sherif Majdallani è quest'estate gli ho dedicato moltissimo tempo ho letto tutti i suoi romanzi purtroppo solo due tradotti in italiano finora e mi sono accorta che sono romanzi che si leggono con la stessa passione con cui da ragazzina io leggevo i libri d'avventura e quindi vorrei fare come prima domanda questa se lei dovesse descrivere i suoi libri non il diario di Beirut non il diario di Beirut che è una storia a parte ma tutti gli altri misto di avventura storia reale geografia reale e un sacco di invenzione ma l'invenzione basata sull'ipotesi questa è la mia prima domanda se ci sono tutti questi elementi sì no o cos'altro allora la domanda c'è c'è allora anzitutto devo dire che questo era il primo libro che è stato tradotto in italiano pochi anni fa ed è l'histoire de la grande maison che è la ricostruzione della nostra famiglia la storia della di mio nonno materno e ha costruito una casa fondato una famiglia poi è diventato una persona insomma molto conosciuta a livello politico è stato durante la prima guerra mondiale in esilio in turchia insomma la ricostituzione della storia di mio nonno e nel ma dopo la critica letteraria ha mostrato che c'era qualcosa che effettivamente in quel momento stava avvenendo nella letteratura francese cioè la narrazione della filiazione che cosa significa cioè quegli scrittori che iniziano ad interessarsi alla storia dei loro come dire genitori nonni e che ricostituiscono in qualche modo la loro storia ma non per forza autobiografica ma la in modo un po' romanzato questo è uno dei principi che io stesso ho adottato è quello dell'investigazione cioè cercare di ricostituire la storia interrogando le persone per esempio ho parlato moltissimo con mio padre mio padre che a sua volta aveva parlato col suo e poi altre persone anche zii eccetera o zie e così è un po' come un archeologo no? che cerca di risalire il tempo con dei vari pezzi e pezzetti quindi ci sono tantissime cose che tutti vogliono sapere cioè tutti vorrebbero sapere i nonni come hanno vissuto ma come mai questa casa chi l'ha costruita ma ci accorgiamo anche che le persone che ci raccontano questa storia non la completano totalmente cioè bisogna in qualche modo adattarla alla realtà e non funziona sempre molto bene quindi ci sono varie versioni della stessa storia e talvolta c'è anche l'oblio qualcuno vi risponderà beh che ne so io di cosa ha fatto tuo nonno e quindi io ho cercato di mettere insieme tutte queste cose che ho sentito e laddove c'erano dei buchi ho cercato di riempirli io attraverso la mia immaginazione quando c'erano varie versioni ho cercato di immaginarle un po' tutte di proporle tutte come delle possibilità magari effettivamente ho incontrato la moglie in quel modo oppure in quell'altro modo ma io poi ho scelto ho scelto una terza ipotesi e poi a partire da quella ipotesi ho continuato la mia la storia ecco quindi una reazione diverse è possibile che abbia incontrato la moglie in quel modo oppure è possibile in quell'altro modo e dopo di che io scelgo una versione il modo verbale è il condizionale assolutamente il condizionale perché è tutto condizionale per la ricostituzione del passato è condizionale e nell'ultimo libro che è appena uscito in Francia che sicuramente non ho ancora letto ci sono non solo le nostre storie di famiglia è la storia dell'umanità anche quella è al condizionale perché la storia che leggiamo quando si è sicuri cioè gli eventi per esempio della seconda guerra mondiale della prima guerra mondiale e si legge il libro e si dice è la verità e in realtà non è così è raccontato dagli storici che hanno interpretato la storia e anche nel nostro caso c'è la visione di uno scrittore o di uno storico quindi per rispondere alla sua domanda se noi consideriamo che la storia è un romanzo allora chiaramente un romanziere cosa farà? si baserà sul condizionale nulla è sicuro nulla è sicura io propongo e quello che propongo diventa verità dato che io scrivo questa verità la domanda in pittura a freschi che cosa succede quando ci sono dei buchi? il restauratore può fare due cose può lasciare la lacuna cioè può lasciare il segno evidente di ciò che la storia e il tempo ha cancellato oppure può dipingere quello che si immagina manchi lei ha scelto di riempire la lacuna con l'immaginazione allora la domanda è questa io ho sempre pensato che sia molto più difficile immaginare il passato che non immaginare il futuro perché immaginare il futuro è un atto di libertà solo io posso immaginare il mio futuro immaginare il passato è un po' più problematico perché quel passato è stato vissuto da qualcuno quindi il mio atto di immaginazione deve fare i conti con le persone che ci sono state quindi la domanda è su questa doppia forma dell'immaginazione l'immaginazione del passato immaginare la propria mamma bambina mistero che non immaginare i propri nipoti dei nipoti domanda questa come romanziere non posso immaginare il futuro salvo se io scrivo la fantascienza ma chi scrive di fantascienza è abbastanza incredibile molti hanno scritto nel 90 per esempio hanno scritto un romanzo che si chiama Parigi nel 2020 una sorta di Jules Verne però quando si arriva al 2020 non c'entra più nulla con quello che era stato previsto dallo scrittore e si prova il fatto che questa persona non aveva assolutamente una buona immaginazione allora oppure bisogna immaginare una storia molto lontana nel futuro un periodo di cui non sappiamo niente dove non si può in nessun modo intervenire per esempio oggi nelle varie televisioni ci sono tantissimi analisti politici che dicono ecco se continua così il covid farà sì che la società cambia eccetera sono analisi prospettiche sul futuro prossime analisi politiche i vari commentatori tutti tutti in realtà si sbagliano perché quello che si prevede per sei mesi non avviene sul covid è stato così hanno detto il covid cambierà le nostre società si rifletterà su come gestire il nostro pianeta si ritornerà ad una vita molto più sana invece no tutto è ripreso come era prima quindi proiettarsi nel futuro è molto pericoloso e complicato e pericoloso ma lei ha ragione quando si immagina il passato anche è pericoloso perché dice veramente del vissuto e noi cercheremo di ricostituire e io penso che tutto quello che si ricostituisce sia sbagliato sia falso ecco perché dico che gli storici siano tutte persone che hanno inventato o interpretato la storia e ce l'hanno raccontata e per esempio la storia dell'Italia, della Svizzera sono X e Y è semplicemente frutto dell'immaginazione degli storici hanno immaginato gli eventi e l'hanno raccontati al loro modo che non per forza è quello vero la stessa cosa per i romanzi salvo che lo scrittore ha la libertà della scelta nessuno mi dirà hai fatto male perché hai detto che tua nonna era bionda o bruna ho diritto di farlo lo storico, il politico deve attenersi a grandi linee alla realtà il romanziere no è così? è il contrario il contrario direi certo entrambi è una responsabilità ma gli storici hanno provato il fatto che hanno raccontato una storia che è diventata poi la storia ufficiale e molti ricercatori hanno poi trovato che qua e là le cose non erano poi così giuste ma il romanziere invece ha un'altra responsabilità e in mio parere la letteratura è la letteratura che ci permette di capire il mondo e il passato potete leggere moltissimi libri di storia saggi su un certo periodo vi sembra di capire generalmente ma quando leggete il romanzo penetrate veramente la storia e capite i personaggi e il periodo e secondo me attraverso il romanzo capite molto di più del periodo storico rispetto ad un libro di storia quindi il romanziere ha ancora più responsabilità perché è lui che vi fa entrare in una certa epoca e si dice cose non esatte e beh la responsabilità è sua perché le persone ci crederanno penseranno che l'epoca di cui sta parlando sia proprio così è davvero una grande responsabilità io penso che le persone siano molto più influenzate da quello che leggono nei romanzi rispetto a quanto accada leggendo i libri di storia il romanzo ci permette veramente di sentire di penetrare all'interno di questa storia la ricerca nei suoi libri enorme sembrerebbe attraverso queste interviste familiari ma non solo evidentemente quindi io vorrei sapere qualcosa di più sulla ricerca e mi permetto di sollevare una piccola dubitazione sul fatto che chi immagina il futuro sbaglia sempre perché io non credo per esempio che Orwell abbia sbagliato cioè ci sono dei casi rari Huxley, il mondo nuovo io non credo che alcuni rari autori e autrici abbiano sbagliato il problema è che quando non sbagliano sono dei veri profeti e a noi i profeti fanno paura quindi due domande una proprio la tecnica di ricerca perché lei si documenta sicuramente anche attraverso libri i suoi romanzi sono fantastici ed è per quello che ti tengono così attaccata al libro perché c'è dentro tanta geografia c'è dentro tanta storia dell'arte c'è dentro, ci sono dentro i paesaggi, le architetture è sensualissimo tutto quanto lì c'è un lavoro enorme che io vorrei lei ci dettagliasse un po' e poi però vorrei che tornassimo un pochino all'immaginazione del futuro perché non si può dire che Orwell e Huxley abbiano sbagliato no purtroppo attenzione, attenzione, attenzione no, 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 non mi inganna la risposta è semplice io ho detto che si sbagliano gli autori di fantascienza mentre qui siamo in presenza di un romanziere non è un qualcuno che parla delle storie del futuro ha cercato di capire la propria epoca e quindi se io continuo a analizzare la mia epoca penso che questa epoca diciamo questo mondo si evolverà in questo senso cerca piuttosto di capire la propria epoca e non di prevedere qualche cosa pensando che se continua in questo modo la sua epoca si manifesterebbe questo dramma Orwell e Huxley ma soprattutto Orwell sono l'illustrazione di quello che cerco di dire ossia il romanziere è più affidabile dello storico per esempio o di un analista politico che vi dice se oggi giudichiamo la storia dell'Inghilterra, Francia, Europa, Medo Oriente tra dieci anni saremo a questo punto no, non funziona così mentre Orwell è un vero romanziere che ha delle intuizioni il vero romanziere ne ha le do un piccolo esempio una cosa che è capitata a me per esempio nel cercare di fare delle ricerche per creare un personaggio per esempio in un libro ho fatto questo c'era un piccolo dettaglio che non capivo e per capirlo ho elaborato un'ipotesi storica che ho inventato e che riguardava un generale in Libano ho immaginato un qualche cosa ho fatto fantascienza un qualcosa che poteva esistere o meno e io cerco di interpretare il tutto a partire dalla mia immaginazione ho parlato con degli storici ho chiesto loro funziona e hanno detto non ci avevamo mai pensato ma effettivamente sì e 3, 4, 5 anni dopo la pubblicazione del libro del libro è stata fatta una ricerca che ha dimostrato che quello che dicevo nel libro era giusto era l'histoire de la grande maison quindi lo storico ha la capacità ne parlava la vecchia dottrina romantica il poeta vede il futuro è visionario il poeta non vede nulla il romanziere non vede nulla naturalmente però ha un senso della realtà le vede le cose le interprete le mette assieme le ricompone e questo dà un qualche cosa che lui scrive come se fosse la realtà e a un certo punto si può verificare se abbia ragione o meno il romanziere ha un'intuizione rispetto a quello che può accadere poi questo accade quindi Orwell è un romanziere che ha delle intuizioni rispetto a quello che può succedere nel mondo in modo diverso rispetto alla fantascienza ha preso il suo presente ha detto se si continua così penso che se ricomponiamo un po' il tutto arriveremo a questa situazione e questo è avvenuto il romanziere ha una capacità di interpretazione del mondo di comprensione del mondo ed è la letteratura che dà senso al mondo questa è la mia opinione non so se sono stato abbastanza chiaro per le ricerche sì effettivamente io non faccio molte ricerche ho parlato molto ho interrogato molto gli altri ma non è ricerca è curiosità perché tutti parlano con i propri genitori la famiglia per sapere da dove si viene chi ha costruito questa casa per conoscere i segreti familiari tutte le famiglie hanno dei segreti una morte qualcuno che è scomparso che non è mai tornato si cerca quindi di individuare questi aspetti della storia familiare quindi questo mi interessava parlare con le persone per capire come hanno vissuto il loro passato e poi riscrivere questa storia non ho fatto però ricerche storiche o molto poche perché ho letto molto in passato prima di diventare scrittore leggendo scopro molte cose che poi metto nei libri poi verifico che non abbia fatto errori su date o altro quindi la mia ricerca è piuttosto una chiesta un'indagine familiare e io in questo primo libro soprattutto appunto nell'istituto dell'angolo questo primo romanzo ho cercato di raccontare una storia familiare e ne hanno tutti e al contempo ho cercato di spiegare come si ricostituisce si ricostruisce la storia familiare perché c'è la storia in modo in cui è stata ricostruita questa storia perché credo che tutti a un certo punto abbiano avuto voglia di conoscere le origini perché si trova una foto ma chi è questa persona vicina alla mamma si chiede alla mamma sì effettivamente era questa persona però non mi ricordo il nome chiedi al papà al padre non si ricorda e via di seguito quindi si ricompongono queste informazioni e si ricostruiscono le storie familiari nella nostra immaginazione quindi ci sono questi due aspetti che si sviluppano contemporaneamente questo tipo di lavoro si può fare se si rimane in qualche modo nel proprio paese se non si spezzano le radici molto più problematico se si va via perché se si va via non si può più chiedere niente a nessuno è come se fossero morti tutti vabbè volevo però tornare un attimo su quello che evidentemente è un mio pensiero molto presente che è questo uno scrittore americano ormai morto Kurt Vonnegut sosteneva che la fantascienza è la sociologia dei nostri tempi perché se si guarda bene quello che si sta la tormento un po' va bene la tormento un po' perché perché è un pensiero a cui bisogna che pensiamo anche perché dopo aver esaurito questa prima parte dell'intervista passiamo al diario di Beirut e il diario di Beirut di Sharif Majdallani è la sociologia del presente sicuramente ma è anche fantascienza quindi finora è sfuggito a questa mia ipotesi ma poi ci torneremo adesso chiudiamo un attimo quel capitolo lì lo riprendiamo dopo io vorrei invece chiederle perché secondo me è un protagonista assoluto dei suoi romanzi il caso il caso compare da tutte le parti è come se leggo una piccola frase da Ultima Oasi a pagina 128 di Ultima Oasi che è un romanzo recentissimo Sharif scrive a scuola si imparava che la storia è fatta di correnti sotterranee di forze sociali che l'individuo non può misurare anche se ci è preso dentro e che sono esse ad agire come le forze telluriche e a provocare i cambiamenti storici questo tema del caso di una forza cieca imprevedibile torna e ritorna più avanti sempre in Ultima Oasi il divenire dell'umanità oggi è opaco almeno a partire dalla guerra fredda il non senso della storia da allora ha raggiunto un vertice da qui questo lo aggiungo io la fiducia nel complotto il complotto rassicura perché dà un senso all'impenetrabile il mondo spiegato attraverso l'onnipotenza delle forze occulte dei grandi non è lasciato a se stesso né al caos né al caso all'impenetrabilità mi interessa molto questa cosa come opera la figura proprio un personaggio del caso nella ricostruzione storica e anche forse nell'immaginazione del futuro questa forza che nega l'onnipotenza umana per la verità non l'onnipotenza umana in questo libro io che parla dell'Iraq in modo piuttosto casuale io cerco di dimostrare che non siamo padroni degli eventi e tutti i programmi i piani che si fanno qui c'è un grande riferimento al Medio Oriente ma anche a tutto il mondo perché si ha l'impressione che il mondo si è governato da grandi potenze Cina, Russia Stati Uniti potenze economiche l'intelligence i servizi segreti le banche si ha l'impressione che ci siano delle forze che governano il mondo e che presiedono al destino io credo che certo ogni paese ha dei piani per il mondo per i propri interessi economici così come noi abbiamo dei programmi per domani dopo domani vado a scuola devo acquistare un'auto eccetera eccetera sono progetti però tutti i progetti della nostra vita sono a un certo punto disturbati da altri progetti dal caso che fa sì che il mondo non si muove ma mai verso la direzione che vorremmo che vorrebbero le grandi potenze ma gli eventi storici sono valutati a destra a sinistra dal caso prendo un esempio importante celebre più volte nella storia la storia magari oggi non saremo qui oggi a discutere a parlare delle letterature se Alessandro il Grande Magno non fosse morto se non fosse morto alla sua epoca perché se non fosse morto avrebbe ampliato l'impero se il suo impero fosse stato ampliato ingrandito non ci sarebbe stata Roma e il cristianesimo non si sarebbe diffuso così facilmente perché il cristianesimo si è diffuso facilmente perché Roma aveva unificato il Mediterraneo quindi se il cristianesimo non si fosse diffuso non sarebbe nato nemmeno l'Islam perché è stata una reazione il mondo sarebbe stato completamente diverso semplicemente perché un microbo un batterio nel bicchiere di vino bevuto da Alessandro Magno quindi un batterio nell'epoca avanti Cristo influenza ancora la nostra vita mentre ora abbiamo l'impressione che tutto sia normale Alessandro Roma e via di seguito Leibniz lo conoscete avete ha immaginato che nello spirito nella mente di Dio ci sia tutto l'immaginabile possibile tutto quello che può accadere tutti i possibili sono nella mente di Dio e Dio sceglie il migliore quello che avviene ma mi piace pensare che infatti che di fatti nella realtà ci possono essere dei differenti dei diversi che non si sono concretizzati semplicemente perché Alessandro Magno ha bevuto un bicchiere di vino nel momento sbagliato e poi Napoleone Napoleone avrebbe potuto vincere o perdere magari aveva male allo stomaco e non ha vinto e questo avrebbe cambiato il corso della storia quindi si fanno dei piani di programmi che possono cambiare i progetti di tutti gli altri e di conseguenza cambia tutta la storia umana e la teoria della farfalla ci troviamo in questa situazione ho dimenticato la domanda a questo punto qual era l'ultima domanda è questo che lei ha appena spiegato così bene l'effetto farfalla in lei produce più speranza o più paura o niente di tutto questo è sempre stato così non so ora mi è venuto in mente quello che volevo dire per concludere effettivamente quindi riprendo la paura non è la paura sostanzialmente perché il caso è quello che è non possiamo dominare il nostro destino a seguito del caso al di là del caso c'è la nostra volontà di controllare le situazioni tra un caso e l'altro quello che avviene oggi è frutto del caso però io ho volontà la volontà che mi permette di sfruttare una situazione che è frutto del caso io ne approfitto e cerco di farne qualche cosa poi se quello che faccio può essere influenzato da un altro caso con la mia volontà posso comunque correggere il tiro in quanto essere umano ho comunque la possibilità di dirigere il mio destino non quello del pianeta però sono un po' padrone della mia vita nonostante il caso e il passaggio che ha letto fa riferimento a questo ossia c'è un personaggio che risponde all'altro personaggio dicendo che sì c'è il caso però ci sono delle forze sociali la borghesia l'avvento della borghesia la fine della rostocrazia quello che diceva Marx sono forze sotterranee che agiscono che esistono ma il caso può modificare l'andamento delle cose e ciascuno di noi ha la capacità di gestire gli eventi io eredito una situazione determinata da centinaia di casi eredito questa situazione posso influenzare la situazione devo gestire il caso ed è questa la forza che abbiamo è una cosa che gli animali non possono fare agli esseri umani sì il tempo è terribilmente stretto io adesso leggo il capitolo capitoletto numero 17 di questo libro che si chiama Beirut 2020 diario di uno sprofondamento di un collasso lo leggo in italiano sì rivedo il momento in cui tutto è cominciato all'inizio dello scorso autunno giravano già delle voci insistenti inquietanti parlavano del fallimento dello Stato e della sua possibile confisca dei depositi bancari poi il sospetto si è gradualmente spostato sulle banche stesse ma sembrava una di quelle catastrofi lontane di cui si legge sui giornali pensando che non succederà mai a casa nostra gli ultimi effetti della negazione trentennale alla fine una mattina mi decido e vado in banca ero comunque scettico dubbioso inconsciamente rifiutavo la possibilità di trovarmi di fronte al disastro annunciato allo sportello come di consueto senza la minima esitazione anzi con un minimo di con un pizzico di divertimento e di intesa chiedo di prelevare una somma non certo esorbitante ricordo che erano 6.000 dollari 3.000 da ciascun libretto di risparmio dei miei figli non mi servivano era solo per rassicurarmi per verificare che andasse tutto bene mi aspettavo pure il solito sorriso da parte dell'impiegato e in quell'occasione magari uno scambio di sguardi complici come a dire che né lui né io ci eravamo fatti abbindolare dalle voci pericolose che circolavano e che naturalmente il denaro era disponibile eppure in quantità come sempre invece il giovane cassiere visibilmente imbarazzato si sforza di apparire naturale e come se mi stesse informando di un piccolo problema una seccatura tecnica un intoppo informatico o un contrattempo alla cassa risponde che purtroppo non è possibile che 6.000 sono troppi che non può darmi la somma per intero che sarebbe meglio ritirarlo un po' alla volta con prelievi possibilmente a una certa distanza di tempo e in quell'istante capisco che siamo già dentro fino al collo in ciò che fino ad allora avevo considerato solo una brutta fantasia e questo è un pezzo dello sprofondamento un pezzo del collasso in questo diario di un anno a Beirut ci sono poi il covid e l'esplosione nel porto di Beirut ora siccome non abbiamo il tempo di leggere tutto quello che volevo volevo chiedere a Sharif se può raccontare in breve questi altri due aspetti di quel terribile anno che è stato il 2020 non solo in Libano ma in Libano lei abitava era presente era un testimone se può sintetizzarci questi tre corni di un di un collasso il 2020 è stato un anno orribile per tutto il mondo a causa del covid e per 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 il Libano c'è stata soprattutto la crisi economica il crollo economico determinata dalla corruzione del sistema politico tutto lo Stato libanese è crollato sono crollate le banche e questo ha determinato una grande tragedia sociale la gente non aveva più soldi qui ancora era poco perché c'era un po' di denaro ora non c'è assolutamente più nulla quindi crisi sociale crisi economica crollo dello Stato poi c'è stato il covid che è arrivato che ha toccato il Libano così come gli altri paesi e poi c'è stata l'esplosione al porto di Beirut che ha distrutto parte della capitale e che ha causato un crollo psicologico fino allo scoppio all'esplosione c'erano persone che volevano combattere che volevano impegnarsi perché la crisi economica è il risultato del pessimo governo di una classe politica corrotta dirigenti politici che venivano dalla guerra civile ci si poteva ancora impegnare lottare contro di loro poi il covid ha impedito ha bloccato il dibattito scusate la lotta perché abbiamo dovuto chiuderci in casa poi l'esplosione ha distrutto tutto e a questo punto si sono viste le lesioni le ferite della città i decessi le ferite le lesioni e ora ci sono state soprattutto ci rendiamo conto ora ci sono state delle ferite psicologiche la gente si è stata disperata delusa sgomenta non si poteva più fare nulla in questo paese e questo ha determinato il principale problema del Libano l'emigrazione ossia molti lasciano il paese artisti architetti medici intellettuali se ne vanno perché pensano che non abbiano il futuro non ci sia in Libano in Francia per esempio Stati Uniti e Canada sapete come si chiude il diario di Beirut di Sherif Majdallani il capitolo è il 75esimo e consiste in questa frase i nostri destini come questa lattina e questo sigaro gettati al vento grazie credo che Sharif adesso vada dove ci sono i libri per chi volesse un autografo o chiedergli qualcosa visto che non vi abbiamo dato il tempo di chiederglielo qua Silvia Gallerano attrice di Roma attualmente di Roma leggerà per noi in una situazione che adesso cambia perché diventerà tutto buio come è giusto che sia ci leggerà una riduzione di un testo di Etel Adnan che è una scrittrice epitrice una grandissima artista di 96 anni di età però vive vegeta che vive tra Parigi il Libano e la California questo testo che si chiama Essere in tempo di guerra viene scritto da Etel nel 2003 a caldo immediatamente dopo l'invasione dell'Iraq da parte della cosiddetta coalizione dei giusti allora Silvia ne legge appunto una riduzione e poi ci piacerebbe molto che ci dedicassimo tutti insieme 10 minuti alla fine per provare a ragionarne insieme quindi non solo domande risposte che magari non avremmo ma proprio provare a parlarne un momento insieme buona lettura non dire nulla non fare nulla segnare il tempo curvarsi raddrizzarsi rimproverarsi stare dritti andare alla finestra nel farlo cambiare idea ritornarsi nella sedia alzarsi di nuovo andare in bagno chiudere la porta poi aprire la porta andare in cucina non mangiare né bere tornare al tavolo annoiarsi fare qualche passo sul tappeto avvicinarsi al caminetto guardarlo guardarlo trovarlo noioso girare a sinistra fino all'ingresso ritornare nella stanza esitare proseguire solo un po' un'inezia fermarsi tirare la parte destra della tenda poi l'altra parte fissare il muro guardare l'orologio la sveglia ascoltarne il ticchettio pensarci guardare ancora andare al rubinetto aprire il frigo chiuderlo aprire la porta sentire il freddo chiudere la porta sentirsi affamati aspettare aspettare l'ora di cena andare in cucina riaprire il frigo tirar fuori il formaggio aprire il cassetto tirar fuori un coltello portare il formaggio ed entrare in sala da pranzo posare il piatto sul tavolo apparecchiare per uno sedersi tagliare il formaggio in quattro porzioni prenderne un pezzo mettere in bocca il formaggio masticare ingoiare dimenticare di ingoiare sognare a occhi aperti masticare di nuovo tornare in cucina pulirsi la bocca lavarsi le mani asciugarle rimettere il formaggio nel frigo chiudere quella porta lasciare andare la giornata svegliarsi stirarsi alzarsi dal letto vestirsi barcollare verso la finestra estasiarsi davanti alla bellezza del giardino osservare la qualità della luce distinguere le rose dai giacinti chiedersi se di notte è piovuto stabilire un contatto con la montagna accorgersi del suo colore vedere se le nuvole si muovono fermarsi andare in cucina macinare del caffè accendere il gas riscaldare l'acqua sentirla bollire fare il caffè spegnere il gas versare il caffè decidere di aggiungerci del latte tira fuori la bottiglia versare il latte nel pentolino di alluminio scaldarlo stare attenti versarlo mescolare il caffè con il latte sentire il calore portarsi la tazza alla bocca bere bere ancora affrontare le incombenze della giornata alzarsi e andare in cucina tornare e accendere la radio alzare il volume sentire che è cominciata la guerra contro l'Iraq diventare sempre più impazienti avere fame mordersi le unghie indossare una giacca aprire la porta scendere lungo la collina guardare la baia vedere le barche notare una grande barca a vela continuare a camminare restare senza fiato girare a sinistra poi a destra entrare da Sushiran aspettare cercare con gli occhi la cameriera chiamarla appoggiare i gomiti sul tavolo ritrarli quando arriva il tè ordinare mangiare bere usare le bacchette avere finito strofinarsi la bocca con il tovagliolo leggere il conto calcolare pagare ringraziare cortesemente uscire imboccare la strada in salita alzarsi presto scendere in fretta al vialetto d'accesso cercare il giornale estrarlo dalla sua busta gialla leggere in prima pagina guerra accorgersi che guerra occupa mezza pagina sentire un brivido lungo la schiena dire che è così sapere che hanno usato che hanno varcato la linea leggere che Baghdad viene bombardata figurarsi una pioggia di fuoco sentire il rumore avere il cuore spezzato fissare gli alberi risalire lentamente leggendo tornare alla prima pagina leggere di nuovo guerra guardare la parola come se fosse un ragno sentirsi paralizzati cercare aiuto in se stessi conoscere l'impotenza alzare il telefono lasciar perdere vestirsi guardare dalle finestre soffrire per la bellezza del giorno odiare a morte gli autori di crimini simili rendersi conto che è inutile pensare prendere il borsellino scendere le scale vedere delle persone ridotte in poltiglia dire sì davvero la giornata è splendida non sapere nulla continuare a camminare prendere nota della reciproca indifferenza della gente pranzare chiedere della birra fare un'ordinazione bere mangiare pagare uscire arrivare a casa trovare la chiave entrare aspettare pensare alla guerra dare un'occhiata all'orologio accendere sulle notizie ascoltare il veleno distillato dai corrispondenti militari avere mal di testa mangiare biscotti secchi accendere di nuovo la radio sentire le bombe che cadono su Baghdad sentire le ambulanze uscire in terrazza guardare le ombre che si allungano sull'erba contare qualche mosca morta sul vetro andare al tavolo e guardare la posta sentirsi scoraggiati bere dell'acqua non capire il vento chiedersi se la specie umana non sia nel caos desiderare di far saltare in aria il pianeta ammirare quelli che marciano contro la guerra fermarsi dal benzinaio a fare il pieno salire sbirciare il monte Tamalpais riposarsi un attimo respirare contemplare trovare un sentiero e camminare sul sentiero bagnato godersi l'enorme varietà di sfumature di verde sulla montagna alzare gli occhi al cielo e riportarli sull'orizzonte per paragonare i diversi grigi del cielo provare a parlare con le nuvole dire sì è impossibile indugiare sul mistero della comunicazione lamentarne l'assenza dire che va bene poi non credere a se stessi pensare alle notizie del mattino essere inorriditi disprezzare odiare svuotare la testa di emozioni traboccanti deplorare che il male esista rimproverarsi per l'esistenza del male volerlo dimenticare e non riuscire a farlo avvolgersi nella morte correre a prendere il giornale della domenica leggere obiettivo bagdad tornare alla radio sentire dei dissidenti americani sentire che i neri sono in maniera schiacciante contro la guerra che gli iracheni resistono fare le pulizie vedersela con una rabbia interiore ammettere l'evidenza del male l'esistenza del dolore essere incapaci di trovare in se stessi una fonte di energia provare gratitudine per coloro che protestano pur sapendo che sono mossi dal loro senso morale correre rischi ecco cosa fanno pensare che i paesi arabi si sentono insicuri per non dire altro trovare insopportabile la radio aspettare la reazione la vendetta avere sete caldo poi sentire freddo non avere fame ma mangiare comunque soddisfare altri bisogni mangiando sentirsi disgustati contare i morti di entrambe le parti tornare alla radio congratulandosi con se stessi perché non si possiede una tv ascoltare alla radio i reporter egiziani turchi giordani siriani e iracheni sentirsi logorati considerare il tempo presente come puro piombo mettere in ordine le cose trovare un diario del 1975 leggere a caso di ritorno da Damasco leggere oltre domenica 12 riunione con Mawakef abbandonare il taccuino sul tavolo accendere la radio sorbire le notizie come una bevanda amara creare terrore questa è la guerra rotolarsi nella crudeltà nella conquista bruciare uccidere torturare umiliare questa è la guerra ancora e ancora provare a rompere il cerchio di ferro andare in centro e parcheggiare su Caledonia Way camminare fino in fondo al Valalla lungo l'acqua misurare con occhi increduli l'albero di una barca a vela straordinariamente bella a mirarne lo scafo nero e l'eleganza paragonare la leggerezza della barca all'ottusità morale del governo ammettere che non c'è più niente da fare distruggere Baghdad è l'ordine del giorno sentire la colonna sonora della guerra rimanere sbalorditi dalla bellezza piena di colori della primavera prendere un caffè da davino tremare e sudare alla vista di una donna che sembra uno scheletro ambulante condotta verso un'auto comprare pane di mais al real food store sentirsi in colpa pensando alla fame essere di nuovo a casa ammirare l'incredibile bellezza del giardino salire a riporre il pane accendere la radio trovare insostenibile l'ipocrisia ufficiale ripetersi che sono dei criminali di guerra sentire una spossatezza di piombo lungo tutto il corpo essere disperati conoscere l'assolutezza della guerra credere ancora che il futuro sfuggirà ai diabolici progetti del nemico estinguere la luce negli occhi di chi ama il mondo minacciare la vita stessa imporre la morte questa è la guerra versare sangue nelle eufrate e uccidere gli abitanti sulle rive del tigri spostare colline spazzar via un mercato all'aperto rendere impossibile sposarsi dormire alzarsi un mattino a bassora mentre lo si fa laggiù in Messico immischiarsi nel destino degli arabi anticipare la loro morte con traffici e raggiri pregare gli antichi dei non disperarsi sul passato non dimenticare esser certi che un giorno non si sa quando la giustizia prevarrà sapere che il mondo si vendicherà di essere stato ingannato continuare a sapere che esistono misteri e segreti sognare deserti contare i cactus e tutte le piante velenose anelare a soli spettacolari alzare un braccio poi un altro seguire l'ininterrotto flusso di notizie e raggiungere un insopportabile livello di tristezza far finta di star bene perché lo stomaco sente fame non mangiare né tenere il tempo prendere il taccuino poi rimetterlo sullo scaffale vivere nella consapevolezza che gli americani gli inglesi i loro alleati vogliono che il popolo iracheno i bambini gli uomini dell'Iraq siano annientati paragonare ciò che sta accadendo a ciò che è sempre accaduto aggrapparsi a un filo di paglia essere disorientati correre e stare fermi nel buio in terrazza leggere la mappa del cielo identificare le stelle individuare le pleiadi ricordare Babilonia spandere oscurità sul proprio cuore entrare e chiudere la porta restare in attesa del rumore più lieve mettere fine a una lunga giornata andare a dormire fare come se le cose avessero importanza apparire calmi educati con Gaza sotto assedio e mentre un'onda nerastra inghiotte lentamente i palestinesi come non morire di rabbia proiettare sullo schermo la prima guerra mondiale poi la seconda guerra mondiale in attesa della terza spaventare gli innocenti seguendo il metodo israeliano di diffusione del terrore fare una telefonata a Parigi dire a Walid che le cose vanno bene mentire ammettere che il clima è magnificamente incerto provare indifferenza verso una primavera che d'improvviso si fa calda scegliere la maglietta da indossare riempirsi la mente con l'inquietudine che dà il giornale della domenica lì sulla porta leggere un sacco di spazzatura che mischia il sangue della guerra al tanfo degli affari estirpare ogni felicità andare fuori e giù e sulla strada esitare proseguire e avanti e indietro e su per le scale nella propria stanza lungo il tragitto notare che la montagna è ancora lì sdraiarsi e dormire profondamente pesantemente riprodurre il sonno notturno svegliarsi guardare dalla finestra all'acqua verde dalla baia alla montagna e ritornare in sé ricordare che la guerra sta devastando l'Iraq provare dolore camminare verso il camminetto fermarsi lì tornare al tavolo sedersi e stappare il vasetto d'inchiostro rimettere il tappo al suo posto seguire il profilo di un'ombra alzare un braccio per creare un'ombra non per definirne il colore rimanere sorpresi dalla sua natura coprire distanze con la mente e non decidere se sono sulla terra o nello spazio udire dei passi drizzare le orecchie attendere mettere a tacere l'incertezza sgombrare la testa da ogni sorta di presenza liberarsi di quel senso di colpa mentre il dubbio ricomincia a insinuarsi fissare gli occhi sul dipinto perdersi nel dipinto fare un caffè versarlo ma dimenticare di berlo berlo freddo buttare il resto arrabbiarsi dire al diavolo al diavolo aspettare la posta mentre si pensa che importa andare dal dentista di primo mattino poi tornare a casa in auto sdraiarsi in attesa delle notizie di mezzogiorno avere mal di testa essere impazienti vomitare la guerra accogliere con gioia la nebbia con lacrime trovare tenerezza nelle pietre accogliere Sarah Miles con tè e pasticcini perdersi il notiziario chiacchierare salutarsi preparare una borsa da viaggio dimenticare la guerra non smettere mai di pensarci ignorare la bellezza del giorno annaffiare il giardino sbavare dal disgusto osservare l'azzurro porcellana del cielo seguire una nuvola imbattersi in altri azzurri tornare sulla terra volare sulle colline sentire la brezza leggere una riga invisibile che dice che a Baghdad la gente muore in modo atroce fronteggiare il vuoto mentale volare pesantemente come un corvo udire il vento incalzare i rami alitare il proprio albero nell'ulivo selvatico leggere Eraclito definirlo l'oscuro perché il suo pensiero si svolge all'interno di una messa in discussione della chiarezza non sentirsi in forma stare invecchiando combattere l'ansia pensare al viaggio immaginarsi all'aeroporto cominciare a contare i giorni sbadigliare guardare dalla finestra misurare l'entità della propria tristezza mentre se ne nega la forza cercare in vano quest'ultima alzarsi in preda a una sensazione di scoraggiamento fare il caffè riscaldare del latte prendere le vitamine attendere il temporale ascoltare le notizie e indursi a credere che più avanti le cose andranno molto meglio trovare poca energia nel corpo nella mente distillare i pensieri come si fa con l'alcol una goccia alla volta ricordare le piantagioni verdi la terra rossa le facce nere le lacrime bianche rammentare che niente sembra essere cambiato far fronte a una profonda stanchezza interrompere questo flusso di considerazioni disfattiste restare in silenzio e grazie a tutti 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 salire su un taxi, attraversare il ponte, viaggiare nel sole rosso, entrare in città, scendere alla novantesima strada, prendere l'ascensore, lasciare la valigia nell'ingresso, sdraiarsi sul letto, fissare il soffitto, dimenticare tutto. Al mattino sentire l'ostilità di un clima umido, chiedersi perché gli alberi non hanno ancora le foglie, seguire i rami su, su fino alla punta, accorgersi di quanto possono essere alti i palazzi circostanti, mettersi a contare i mattoni del muro, starnutire l'inquinamento, togliere la fuligine dallo specchio, tossire e sputare, comprare il New York Times e trovarlo disgustoso, guardare le foto che esaltano la guerra, essere sgomenti per il numero delle vittime civili, provare vergogna sentendosi così comodi nell'appartamento, sentirsi stanchi di vivere, tradire i propri pensieri, bere qualcosa e mangiare troppo, amare la birra e Central Park, progettare una visita al Metropolitan, decidere di passeggiare per il parco mentre telefonare in California, sottoporsi a troppa disinformazione, avvicinare la bottiglia, bere i vian, provare imbarazzo perché gli abitanti di Bassora muoiono di sete sotto i britannici di ritorno, morire di sete per gli indigeni, morire è per gli altri, informare i viventi che non sono ancora morti, udire nella voce dei bambini la loro futura morte, abbassare le luci con inquietudine, andare in cucina senza motivo, sedersi al buio, accogliere pensieri i bui, allentare la morsa attorno al cuore, svuotarsi le vene di ogni forma d'amore, ritrovarsi inanimati, essere murati vivi, strisciare tra le ore, cadere in prostrazione, perdersi negli interrogativi, chiudere tutte le strade, lasciare che scenda il crepuscolo o piuttosto che salgano le ombre, accendere le lampade, evitare le notizie, lavarsi le mani, asciugarle con cura, scuotere la testa e tutto quello che contiene, respirare a fatica, non preoccuparsi ma annoiarsi, raggiungere uno stato di coscienza parallela, andare alla finestra solo per accertarsi che fuori è davvero triste, come a Bagdad sotto le bombe, chiedersi perché si è così placidi. Svegliarsi al mattino in una tempesta di neve, sorprendersi che stia accadendo in aprile, ricordare i ciliegi in fiori, in fiore delle primavere passate, bere il caffè ancora bollente, uscire nel freddo a comprare il giornale, mettere scarpe nuove, ritornare di fretta e gettare il giornale nel suo angolo, contemplare la nevicata sotto un cielo argenteo, desiderare con forza di essere a Bagdad, in sprezzo alla guerra, schernire il pericolo, sapere che la fine è vicina, allucinare, vedere le amputazioni come dei vasi posti su mensole, sentire urla e premersi le mani sulle orecchie, urlare, rispondere al telefono che senza volere interrompe l'incubo, preparare il tè, scoprire che l'acqua è tiepida e l'ora amara, ringraziare il cielo per aver fermato la neve, pensare a Beirut, sognare la Palestina, sentire la mancanza di Bagdad, ricordare l'impossibilità di essere mai totalmente dove si è, disprezzare la storia per come viene insegnata ma amare la Grecia comunque sempre, sentire il bisogno di celebrare il coraggio, nella camera, a un letto, spegnere la luce, osservare il diffondersi della notte è inevitabile, parlare di angeli secondo se stessi e secondo Rilke, evocare Malte e Lauritsbrugge, ricordare la propria adolescenza e temere la distanza, soffrire, amare ancora chi si è amato, scoprire che si è davvero amato, chiedersi se ricordare le cose del passato all'aria aperta sia meno doloroso che in questo carcere, avere un cattivo sapore in bocca, mangiarsi le unghie, avere male all'Iraq, ribellarsi alla tortura alla quale è sottoposto, avere le articolazioni rigide e la lombagine, attraversare la giornata come un fantasma che si è acclimatato, perdere di vista ogni ragion d'essere, rinunciare sia alla speranza sia alla resa, accostarsi al nulla, frugare nella memoria la ricerca di residui del passato, concedersi l'insonnia, nevicare sulla cisterna, scrutare il cielo, volare di ramo in ramo, aprirsi nell'aria un passaggio verso gli alti edifici in un mattino rosa, andare a comprare il giornale dove qualche reporter afferma che bombardare Guernica, Rotterdam, Baghdad o New York si risolve in altrettanti crimini di guerra, udire il telefono che squilla, guardare la neve, meditare sulla crudeltà mentre c'è rumore in corridoio, annusare gli odori della cucina del vicino, essere ossessionati dal cibo come sostituto di cosa? Cogliere un barlume della propria infanzia, trasformare la materia in spirito, varcare la soglia, abolire tutti i segni, poi cercarli, decifrare il futuro, arrugginire, chiedersi come digerire la sconfitta invece di vomitarla in piena notte, tornare a letto e tirare le coperte. Spazzare il salotto così da disperdere tutti questi angeli che fanno disordine, pensare alla California che sta svanendo, annoiarsi, scagliare in aria una visione di Baghdad scomparsa, perdere energia dalla rabbia, incapsulare il presente, essere turbati così da non essere più inquieti, affidarsi alle dighe del corpo, osservare intensamente le foto dei cadaveri iracheni che giacciono sulla propria terra, desiderare la fine di ogni cosa, di se stessi e degli altri, tornare a quelle immagini e trasformarle in icone, pregare, progredire nell'ostentare indifferenza, seppellire i propri sentimenti, provare sollievo dal parrucchiere, andare a spasso, sgombrare alcuni ricordi e permettere alla morte di manifestarsi, proiettare il film di cose appena accadute, lasciare che l'amarezza invada l'anima, combattere i rimpianti e perdere la battaglia, sapere che quando qui è piena notte, a Baghdad, è primo mattino, pensare a Badr Shaqir al-Sayyab, calarsi nella sua tomba per informarlo che Bassora viene distrutta, lavar via il sangue dalla faccia della sua gente, lasciare Badr al suo sonno, volarsene indietro a New York l'indifferente, la ferita, ricordare le poesie di Inanna, invocare gli dèi di Babilonia, augurarsi che si uniscano alla battaglia e sapere che non accadrà, prevedere la vendetta nella morte, affrontare l'iridescente caos interiore, iniziare una giornata grigia, perdere il limite fra il sé e ciò che lo circonda, comprare due giornali per raddoppiare l'orrore, raggiungere il fondo dell'orrore, trasformare le distanze in un tunnel, ricevere un pacchetto, leggere la lettera di Bobby che prevede un cataclisma mondiale, credergli, entrare nel moto del tempo, fare il giro dell'isolato, togliersi le scarpe bagnate, sorvegliare i battiti del cuore, rinunciare a scrivere la lettera, rinunciare a tutto, avere bisogno di un po' di sonno, ingoiare la pillola, lasciare che sia il corpo a pensare alla guerra, ronzare dalla stanchezza, sognare quasi canali e campi coltivati, scalare montagne, ma non è vero essere incollati al terreno, star male perché loro stanno male, seppellire i morti viventi, abbassare la maschera, pulire la vasca con disgusto, sentirsi in colpa e dare la colpa alla guerra, essere sconcertati dall'enormità di quanto sta accadendo, vivere in una specie di lusso, evitare l'idea che potrebbe essere diverso, aspettare la fine di ciò che non finirà, inalzare di nuovo il grande canto, ma poi accorgersi che Sadi Yusef non ha ricevuto il visto d'entrata, pensare che la democrazia sia diventata una sciarada, riposare è diventato inutile, impedire che la luce raggiunga lo spirito, accendere il proprio risentimento, augurare un addio non ambiguo ai palazzi presidenziali, collassare, udire dei passi, andare alla porta, far entrare un amico, parlare del tempo e poi scivolare sulle notizie di guerra, trovarle cruente e monotone, non riuscire a portare la propria attenzione su qualcos'altro, insistere sulla bestialità della violenza, salutare l'amico, errare in uno spazio chiuso, alterare le proprie percezioni tramite la sovranità del dolore, chiedere alla morte di essere responsabile, sperare che il tigri non rallenti, misurare la profondità degli specchi, drenarne il sangue e riempirli d'acqua, affogarci dentro, rendere inabitabile il proprio sguardo, entrare nella città di Baghdad pesantemente distrutta, leggere sul calendario 9 aprile 2003, guardare gli iracheni messi in ginocchio, scrutarne i volti, ammirarne la resilienza, sognare e poi tornare a una realtà che strazia il cuore, partecipare alla vaga apprensione di New York, trascorrere un'ora al bar, entrare a Baghdad e distruggere qualche altra casa, sollevare altra polvere, far finta di niente, mostrare arroganza, brutalità e trasformare le persone in bestie pronte per il macello, desiderare che i conquistatori vengano sepolti nella sabbia, pianificare il caos, assicurarsi che sia un caos omicida, impedire che un paese sia governato decentemente, ecco la politica del giorno, pervertire il linguaggio, pervertire gli occhi dei bambini, corrompere e distruggere, ecco il nuovo ordine, distribuire il male con congegni costruiti ad hoc, a New York aspettare che finisca di piovere, là piovono bombe su Baghdad, definire la tristezza e dissezionarla in un corso di anatomia, prendere l'influenza, preparare il pranzo, poi uscire a buttare la spazzatura, uscire e contemplare Broadway che corre giù fino all'oceano, comprare e comprare, e tornare a casa. Distruggere sia il muro interno sia quello esterno, abitare la città che si è conquistata con il massacro, aggiungere rovine alle rovine, essere gelosi di Babilonia, spruzzare livore sui suoi cadaveri come sui viventi, bruciare materia viva, irrigare gli alberi di palma col fuoco. Questo è un lavoro da barbari, diagnosticare la follia in coloro che annientano l'Iraq, non dimenticare che ci sono anche gli inglesi, non dimenticarlo mai, giurare sulla montagna e sulla sua cima che niente sarà dimenticato, marchiare la pelle del cervello con il nome di Inanna, richiamarla in vita, portarla alla resurrezione, rianimare la fede nella metempsicosi, non amare, dormire per poter star svegli di notte, scoprire che il modo infinito è un'illusione, perdere ogni appiglio, tenere a distanza il desiderio, non rinunciare ma aspettare, esistere nel dubbio, in stanze buie, nell'oscurità dello spirito, uscire, girare a sinistra, attraversare la via, entrare in un supermercato, comprare formaggio greco made in Wisconsin, indugiare di fronte alla carne e all'anana, spagare il formaggio alla cassa, uscire, notare che le torri gemelle non ci sono più, provare a pensare a qualcos'altro, essere a casa, mantenere uno sguardo benevolo, lamentarsi del rumore, piangere sul sacco del museo archeologico di Baghdad, sentire il dolore, seppellire l'amore, sputare l'amarezza, lavarsi i denti, essere certi che la giornata somiglierà a quella di ieri, continuare a essere sorpresi dall'insensibilità dei reporter, buttare il giornale, ricordare le diverse guerre che hanno intessuto la propria vita, vedere nel proprio cervello i soldati inglesi che camminano per Beirut, non raggiungerli perché resteranno immagini, lavarsi le mani, asciugarle, prendere una pillola, fissare le tende, non dormire di giorno, temere le telefonate, girare a vuoto, osservare gli effetti di luce su un dipinto, pensare che l'albero è cresciuto, seguire le macchie di sole sul suo tronco, guardarci attraverso e scoprire una gigantesca parete di vetro, ricondurre indietro lo sguardo come si riconduce in porto una barca, paragonare l'edera ai rettili, vedere specchi, ammazzare il desiderio di uscire, contare i giorni da un giornale del mattino al successivo, sentirsi imprigionati, dimenticare l'età del mondo ma ricordarsi la propria, vivere di dolore, essere incapaci di ridere, attendere l'ignoto, non sapere che la biblioteca di Baghdad è stata distrutta, avercela con i nuovi barbari, sanguinare per ogni libro, non poter più leggere uno di quei libri, precipitare nelle proprie vene, nascondersi nel proprio cervello, presiedere alla perdita, osservare una vera e propria fine, asciugare le lacrime, scoprire lacrime interiori che si trasformano in ferite, analizzare nuove malattie, murarsi nella perdita, crogiolarsi in civiltà morte, diventare una di esse, imbattersi nei morti, vomitare lo stomaco e sputar fuori il cuore, amputarsi la testa, agonizzare sul suolo di Baghdad, invocare la calura come un'arma, bere con Michael McClure il sangue degli arabi trasformato in vino, mettere da parte la paura, tirare le tende, decidere che fa lo stesso, scegliere fra il cordoglio assoluto, il cordoglio che non dà tregua e la morte, respirare fuligine e insicurezza, spegnere tutte le luci e proiettare immagini mentali sulla parete, dare inizio alla battaglia finale, spostare la battaglia alla prossima generazione, essere consapevoli dell'intrinseca futilità di ogni azione, uscire di casa da se stessi, cominciare al mattino la lunga attesa della notte, far esplodere la verità, far esplodere i paesi, sentirsi impazienti di fronte al nulla, sciacquarsi le mani e lavarsi i denti, accorgersi che gli specchi risplendono nella notte, che la posta attende che le si risponda, preoccuparsi della guerra che viene condotta così lontano, così in segreto, pensare già alla prossima guerra, martellarsi addosso la propria angoscia, creare nella propria immaginazione il mondo di un uccellino, osservare il fiume Hudson attraverso le proprie ciglia, sputare inquinamento, superare un semaforo verde, evitare un incidente, diventare un oggetto, diventare l'oggetto che quell'oggetto protegge, non attendersi nulla, vivere senza desideri. Provare a distrarsi con la poesia, con gli alberi, veder crescere gli alberi in fretta, apparire e sparire. Trovare rifugio da conquiste bestiali, infinti ripari. Dare la caccia al rifugiato, stanarlo dal suo nuovo rifugio, conficcare un proiettile nella testa e nella schiena di un palestinese, aggiungere gli iracheni alla carneficina, dipingere grandi tele con il sangue, poi prendere un treno notturno, poi un aereo, sbarcare a Parigi, alzare il telefono, comporre un numero di Beirut, sentire l'amica dire che un sincero monoteista ha sparato a sangue freddo a un giornalista palestinese. Chiedersi se Dio è necessario, spazzare via il problema, pensare a Cassandra, ricordare il codice Hammurabi, affondare nel grasso, guardare la strada lunga e stretta che conduce il mondo al mattatoio. Applausi. 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 Forse possiamo riaccendere le luci nella sala. Ecco, non so se ci sono degli interventi essenzialmente, più che delle domande, a Silvia che l'ha letto, a me che l'ho tradotto insieme a un amico. Grazie mille innanzitutto di questo spettacolo finale, anche così un po' creato da voi per l'imprevisto, quindi per quel caso di cui si diceva prima, insomma, quindi grazie. Volevo giusto magari chiedere una cosa legato a questo tipo di forma, di narrare un qualcosa e quel discorso che si faceva ieri, io purtroppo non c'ero ma l'ho recuperato in streaming con Mattia Senard, di quel discorso sulla forma che si faceva ieri. Mi sembra che si chieda molta verità alla letteratura adesso, si cerchi il vero nella letteratura quando in realtà quasi non chiediamo più il vero ai giornalisti perché ormai è tutto fake news, è tutto, cioè diamo quasi per scontato che tanto la verità non ci arrivi, mentre poi mi sembra invece che si chieda la verità alla letteratura, è una cosa che trovo abbastanza assurda e non si faccia, o si faccia pochissimo, oppure non sia mainstream ma sia soltanto di nicchia la ricerca della forma nella letteratura, che penso sia la cosa più importante nel mondo di oggi, dove abbiamo tanto romanzo classico, lo rileggiamo anche spesso, però credo che il nuovo, anche in una società molto cambiata come quella di adesso in un anno e mezzo, da un anno e mezzo a questa parte, ecco io credo che ci sia bisogno di fare un po' di ricerca sulla forma o comunque di spingersi un pochino da quel punto di vista. Volevo chiedere a lei che aveva già un pochino toccato prima l'argomento con la fantascienza, cose di questo tipo, o anche la narrazione di oggi, cioè quali forme ci aspettiamo possano raccontare un presente come quello di oggi e se qualcuno, secondo lei, sta in letteratura già facendo quel tipo di lavoro? Sì, la cosa interessante è che qualcuno lo sta facendo in letteratura, qualcuno lo sta facendo al cinema, qualcuno lo sta facendo attraverso le fotografie, probabilmente qualcuno lo sta facendo meglio di chiunque altro attraverso le canzoni e ha ragione a porre questa questione perché in effetti noi siamo subissati di parole, siamo subissati di narrazioni, ma è come se sfuggisse completamente la realtà a tutto questo. Allora, l'esperimento di Ethel Adnan e l'audacissima interpretazione di Silvia Gallerano, l'esperimento di Ethel Adnan è stato di costruire una sorta di diario minuto per minuto, istante per istante, di quel dentro fuori che ognuno di noi prova nei grandi momenti di svolta della storia, in cui abbiamo lo scenario ostruito dai media, i media ci danno uno scenario già ostruito, comunque noi riusciamo a intuire quello che sta succedendo in giro per il mondo, ma non basta, perché poi ognuno di noi ha il suo vissuto personale, la sua giornata, la sua notte, i suoi sogni, il suo corpo, i ricordi, quello che è stato vissuto prima e quello che ci immaginiamo vivremo dopo. Ethel Adnan, in questo monologo, che è una specie di flusso di coscienza, fa questo esperimento, tenere insieme queste due dimensioni, la dimensione piccola, personale, privata, la dimensione grande, storica, politica, e sceglie di farlo con un esperimento letterario molto ardito, usa solo l'infinito. L'infinito è un non-tempo, non solo è un non-tempo, non hai soggetti. Stamattina, non mi ricordo, sì, i quattro giovani autori che parlavano tutti di je, nous, bene, io, noi, quando c'è il noi c'è sempre un loro, quando c'è un io, forse, forse, c'è un tu, non sempre, quasi mai. Invece, se si usa l'infinito, tutto questo salta, e se salta, che cosa ci si disegna davanti? e avrete notato che a un certo punto di questo monologo verso la tre quarti è più lungo di quanto noi non l'abbiamo fatto, l'abbiamo tagliato un po' per ragioni evidenti, a un certo punto, però, lei dice mi accorgo che l'infinito non esiste. Un'illusione. Quindi dopo aver scritto x pagine usando solo l'infinito, mi accorgo che l'infinito non esiste, restare senza appigli. Ma non è forse questa, ed è qui, provo a rispondere, non è forse questa la dimensione giusta dell'essere in tempo di guerra, quali noi siamo, noi siamo in tempo di guerra. Iraq, e poi, e poi, e poi. E allora l'essere in tempo di guerra, forse è un tempo in cui bisogna ammettere e accettare che siamo in un tempo che non c'è, in un tempo infinito, ahimè, in un tempo che non c'è, in cui forse vale la pena di adottare come principio esistenziale quello dell'incertezza. Come dice un mio amico africano, vivere nelle crepe. Vivere viviamo, certamente, ma vivere senza quella pompa, quella pompa, quella sicurezza di chi siamo e dove andiamo. Non lo sappiamo tanto. Prima il nostro Sherif Magdalani, non è un caso che queste ipotesi vengano dal vicino oriente o dall'Africa. Prima parlava di quanto conti il caso. Ecco, noi ce l'eravamo un po' dimenticato, ce l'eravamo un po' dimenticato. L'onnipotenza occidentale, soprattutto maschile, è fantastica. Si decide di fare una cosa e la si fa. Non era previsto l'imprevisto. Invece l'essere in tempo di guerra all'infinito di Etelard non è proprio la proposta dell'assumere il principio dell'incertezza, che forse è l'unico principio umano, quello che ammette che l'essere umano è innanzitutto sapersi mortali. Innanzitutto. Cos'è che ci fa umani? L'essere venuti al mondo per un po'. Quindi queste cose, secondo me, ci servono. questo tipo di narrazioni che si interrogano anche non sul piano dei contenuti e basta, ma si interrogano anche su come raccontarsi e raccontare e ascoltare. Ascoltare quello che hanno gli altri da dire. Io l'ho risentito in un modo totalmente diverso. durante la lettura ha cominciato a crescere veramente un malessere sempre più importante. Mi sembra un testo fantastico, ma perché è un testo che mi ha coinvolto sempre di più e in fondo mi ha fatto sentire sempre più male. E quindi a un certo punto ho cominciato a dire ma aspetta, mentre crepano x persone in Iraq, a Baghdad, eccetera, il mio vivere bene qua dipende dal fatto che i nostri mercanti d'armi vendono le armi per ammazzare tutta questa gente. e quindi questo testo mi coinvolge a livello di cittadina perché dire ma io ai nostri mercanti d'arte d'arte che l'apsus che l'apsus ai nostri mercanti d'armi ma continuo a non dire un bel niente cioè se i mercanti d'armi noi li lasciamo continuare a vendere queste questi aggeggi che ammazzano la gente in modo che noi continuiamo a stare bene la nostra la nostra responsabilità è grandissima cioè non è il mondo dell'incertezza è il mondo dove noi dobbiamo sentirci coinvolti se noi non siamo coinvolti vabbè allora continuiamo a vendere le armi che creppino pure e noi continuiamo a stare bene a lavarci i denti a spassarcelo tranquillamente ecco comunque grazie è abbastanza quello che però è appunto no dico è quello che intanto è l'effetto che ha descritto è un po' l'effetto che ha fatto anche a noi alla lettura e che ci immaginavamo come dire che potesse essere insomma io quando finisco di leggerlo non sto bene non perché comunque anche questo la descrizione della come dire dello spassarsela nostra non è proprio un grande spassarsela per me è molto chiaro nel momento in cui poi avviene questa correlazione che l'immagine che Etel Adnan dice essere murati vivi parla di un carcere no cioè tutta questa cosa qua in realtà è una costrizione perché è un'immagine è è un modello anche questo no è una raffigurazione di plastica dentro la quale alla quale corrispondiamo perché perché gli opposti possano convivere e basta poi naturalmente la cosa che ha sollevato lei signora è sacrosanta però noi occidentali abbiamo una specialità che è quella di soffrire di indignazione che è il minimo sindacale diciamocelo ma poi ma poi appunto al massimo facciamo dei festival ecco allora no è seria sta cosa e ci sentiamo il paradosso è che poi stiamo anche meglio quindi siamo veramente tremendi scusi mi permetto di traslare lei ha fatto questo lapsus meraviglioso mercanti d'arte mercanti d'armi posso parlare di mercanti di vaccini perché nel mondo a oggi mi risulta siano vaccinati il 14% degli abitanti del pianeta terra è uguale è lo stesso principio purché noi possiamo continuare ad indignarci è una merce d'uso l'indignazione e finché questa cosa qui poi non so poi ognuno di noi si regolerà naturalmente però forse bisogna smetterla di continuare a fare cose solo consolatorie forse beh diciamo comunque che quello che non dà delle risposte ecco questo pone delle domande questo poi di solito come tutti i migliori testi credo poi la risposta la diamo ognuno se può se magari la trova ce la dà anche a noi ma non sempre la risposta vale uguale per tutti è vero ed è interessante questo rapporto tra l'individuo è proprio il fatto di cercarla uguale per tutti che spesso ci rende immobili esattamente esattamente altri altri interventi se no ci diamo il passo come volete c'è Vanni che incumbe bene grazie mille grazie a voi per l'attenzione ora potrete raggiungere Sharif che vi aspetta spero fidelmente al bookshop e poi proprio un esperto di crepe per così dire come è stato usato poco fa è lo straordinario filosofo che chiuderà il festival quindi magari con sicuramente delle domande magari qualche risposta e penso un po' di speranza a più tardi grazie a tutti